Valle di Fassa sotto le rocce del catinaccio il Movimento 5 Stelle per la giornata di oggi. Movimento 5 Stelle nazionale e provinciale che ha ribadito le ragioni del no al referendum costituzionale che punta a cambiare la nostra Costituzione. Riviviamo questa giornata nel servizio. Al motto di moderni partigiani armati di informazione, militanti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle Trentino e da fuori regione sono saliti agli oltre 2200 metri dell'arrivo della funivia Ciampedie in Val di Fassa per ascoltare e ribadire le ragioni del no pentastellato al referendum costituzionale del prossimo novembre. Un tour che il deputato romano Alessandro Di Battista sta compiendo a bordo di uno scooter in quasi 30 località lungo la penisola e un itinerario di circa 4.000 chilometri. Chi infuni via, chi ha piedi da Passo Costalunga. Il Popolo 5 Stelle con il consigliere provinciale De Gasperi e il capogruppo comunale Paolo Negroni di Trento ha accompagnato il portavoce di Battista fino al rifugio Roda di Vael. Spiegheremo le ragioni del no al referendum costituzionale. Come vedete tanta tanta gente partecipa, è meraviglioso vedere queste tante città informali che ha la voglia di sovranità e io sto facendo un tour per tutta l'Italia, il costituzione costo costo in motorino, ma oggi invece si cammina, facciamo un paio d'ore di camminate e poi sopra a spiegare perché dobbiamo dire no alle schiforme costituzionali di Renzi. La Costituzione rilancia nei 5 Stelle patrimonio comune e deve essere il più possibile condivisa. Il governo Renzi la sta trasformando in indirizzo di governo funzionale a esigenze contingenti. Per essere credibile ed efficace, ha sottolineato Di Battista dalla Val di Fassa, la Costituzione deve essere condivisa, politica sì, ma non a vantaggio di una o dell'altra parte. Con questa riforma per i 5 Stelle verrebbero meno la partecipazione democratica, la rappresentanza politica e l'equilibrio tra i poteri.